non sentire, non parlare. Ma dopo l'ultimo attacco frontale Ziotano decide di agire e Peppino Impastato muore. Perché nel frattempo Peppino aveva cominciato la lotta alla mafia grazie alla sua radio libera, Radio Out, a Terrasini. Luigi Badalamenti Luigi Impastato, scusate che anche chiamarlo Badalamenti è la stessa cosa. Luigi va perfino negli Stati Uniti a cercare aiuto cercare di convertire suo figlio Peppino attraverso la possibilità di avere un lavoro molto ben pagato negli Stati Uniti il fatto di poter avere addirittura una sua radio negli Stati Uniti in una terra protetta e non così vulnerabile così scoperto come a Cinesi a Peppino rifiuta e questo rifiuto costa caro a Luigi perché Luigi muore nel settembre del 1977 all'età di quasi 72 anni e muore in un modo molto strano perché muore investito di notte da una macchina una macchina che improvvisamente in un tratto totalmente rettilineo perde il controllo e lo investe e lo schiaccia certo non verrà mai dimostrato se Luigi sia stato ucciso deliberatamente ma che può mai dirlo e al funerale il figlio Peppino si rifiuta categoricamente di stringere la mano ai boss di Cinesi e al sindaco stesso e questa reazione suscita molto scandalo in paese ora rimane Peppino e anche per lui i granelli di sabbia nella clessidra scorrono inesorabilmente fino a quel giorno del 1978 Peppino Impastato l'eroe dei cento passi sono corsi anni prima che emergesse la verità sull'omicidio di Peppino Impastato Cinesi 5 gennaio 1948 9 maggio 1978 fu assassinato il giorno in cui l'Italia inorridiva per il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro i killer tentarono di farlo apparire come l'autore di un attentato il corpo dilaniato da una carica di tritolo fu gettato sui binari della ferrovia solo nell'84 grazie a un'indagine avviata dal giudice Rocco Chinnici si capì che si era trattato di un diritto di mafia la ribellione è la relazione di uno stato di esasperata soggezione o costruzione capace di tradursi in aperta rivolta armata la ribellione di un popolo contro le forze dell'ordine in un deciso rifiuto all'obbedienza ai genitori alla disciplina in Sicilia una ribellione sociale di massa persino di popolo pur se non sfociata in rivolta armata c'era già stata l'occupazione delle terre nell'immediato dopoguerra ribellione pacifica quanto alle intenzioni dei partecipanti soffocate nel sangue quanto al volere dei mafiosi e degli agrari ma ribellione la posta per migliaia di braccianti fu rappresentata dalla possibilità di lavorare nonostante latifondisti assenteisti e tenere accesa questa speranza di per sé determinava quel rifiuto di un'esasperata soggezione anch'esso contemplato dai dizionari esasperata soggezione e si potrebbe aggiungere nel caso Sicilia anche a Tabica quasi ancestrale quanto rifiuto all'obbedienza di genitori mafiosi prima che muovesse la tragica epopeia di Peppino Impastato le cronache non ne parlano e non ne parlano perché non avrebbero nulla da dire magari ci saranno stati episodi passati sotto silenzio rari gesti di insubordinazione sciarre liti familiari ma della durata di un mattino niente che vedere con quella costante ribellione individuale di Peppino Impastato che si tradusse presto in qualcosa di assai più alto se il padre era mafioso alla madre felice a quel mondo faceva schifo e si leggano le pagine da Ciamaraini sulla mafia per capire quanto sia centrale la figura femminile nel contesto mafioso il 68 l'adesione a gruppi di estrema sinistra la lettura spasmotica di testi che a Cinisi non leggeva nessuno il sentirsi parte di un'altra storia fecero il resto rebelli si nasce o si diventa la rivoluzione salta in aria con 5 kg di tritolo in una tiepida notte di primavera lasciando in giro moltissimi frammenti oppure qualcosa che ti accompagna dove ci sono ingiustizie da sanare violenze tirannie miseria e Peppino Impastato è nato diverso in un paese mafioso come Cinisi o l'è diventato a causa di cattive amicizie di cattive maestri di letture sbagliate è diventato così perché aveva una madre come Felicia ribelle o perché era costretto a subire le violenze del padre Luigi che come scrive lui stesso voleva imporgli il suo codice comportamentale Luigi apparteneva a una famiglia storicamente mafiosa era stato al confino aveva rafforzato il suo prestigio quando il capo mafia Cesare Manzella che passava per un benefattore aveva sposato sua sorella non esercitava un ruolo di primo piano ma era nziu ascoltato portava per mano il piccolo Peppino a tutte le manifestazioni in cui erano presenti i mafiosi e contava di farne i suoi eredi in tutti i sensi Felicia apparteneva a una famiglia benestante aveva fatto parlare di sé quando una settimana prima delle nozze con il corredo esposto aveva rotto il matrimonio dicendogli di non amare la facoltosa persona nascendogli dal padre intimandogli di non ricorrere a gesti come la fuitina altrimenti li avrebbe denunciati un altro esempio della sua fermezza lo aveva dato quando Luigi era stato sorpreso da un marito geloso e costretto a scappare in mutande Felice l'aveva lasciato aveva portato con sé i bambini ed era andato ad abitare a casa di suo fratello solo due mesi dopo grazie alla mediazione di Cesare Manzella si era deciso a tornare qualche anno prima aveva perso un figlio per una sospetta meningita e temeva che Peppino potesse essere contagiato lo aveva affidato a sua sorella Fara e a suo fratello Matteo un socialista che lasciò un forte impronta nell'educazione di Peppino gli anni 60 furono brutti nel 63 Cesare Manzella in combutta con il clan del Corleonese di Luciano Liggio diverse volte ospita a casa sua e con la cosca del greco di Ciarulli era saltato in aria con la sua Giulietta e Luigi per precauzione si era accantiato nascosto e aveva accompagnato la famiglia a Contessa Entellina dove viveva un fratello soprannominato Sputafuoco gabellotto dell'onorevole Pecoraro Peppino frequentò il liceo classico di Partinico assieme a un gruppo di compagni tra i quali due figli del segretario della sezione le PSIUP nato in quegli anni dai ribelli del PC che non avevano condiviso l'adesione al centro-sinistra i ragazzi cominciarono ad organizzarsi con un giornale l'idea socialista una novità per un paese culturalmente stagnante ciclostile matrice inchiostro carta spilatrice e distribuzione gratuita inchieste sulla difficoltà dei rapporti interpersonali un dirompente servizio di Peppino la mafia una montagna di merda denunce sull'assenza di strutture sportive vignette poesie ed altro fino a quando il sindaco non denunciò la redazione priva di un direttore responsabile il processo si concluse con una multa e fu il primo contatto di Peppino con un tribunale se il PC aveva come punto di riferimento Mosca il PSIUP guardava con più attenzione a Pechino e all'esperienza della rivoluzione culturale a Cinisi circolava molto materiale filo cinese soprattutto gli scritti di Mao intanto si consumava una drammatica lacerazione tra Peppino e suo padre non era questo il figlio che Luigi voleva meno che mai un comunista si arrivò alla rottura e Luigi buttò fuori casa il figlio ribelle per dare una dimostrazione al paese e ai suoi amici Peppino trovò un garage in affitto che divenne sede nel circolo Che Guevara vi campeggiavano quattro grandi manifesti di Marx Engels Mao e Stalin sopravviveva quel po' di abiti libri vestiti che sua madre gli portava di nascosto maturavano altre cose la scellerata scelta di costruire un aeroporto civile per Palermo su una striscia di terra tra le montagne e il mare aveva reso necessaria la costruzione di una terza pista traversale per evitare pericolosi vuoti d'aria nelle giornate di Scirocco a Cinisi si era costituito un consorzio di espropriandi che chiedevano il pagamento anticipato delle terre per comprare qualche altro luogo dove continuare a lavorare fu quello il battesimo di fuoco e le natività sociali di Peppino assemblee con i contadini cortei comizi manifestazioni in piazza o per strada lo portarono a contatto con le mitiche masse e a scontrarsi con la violenza del potere furono calpestate tutte le norme previste per gli espropri e si verificò una vera e propria occupazione militare con cariche di polizia arresti sventramento delle case dove abitavano i contadini processi condanne valutazione irrisoria dei terreni e pagamento dopo 4-5 anni in pratica la distruzione dell'economia agricola dei cinisi dopo questi fatti maturò la definitiva rottura col PC che aveva abbandonato la lotta già da tempo perché l'aeroporto si doveva fare le scelte di Peppino si orientarono prima verso la lega dei comunisti e poi verso il PCDL ma uno strano partito filocinese che chiamava quelli del PC i revisionisti e professava una convinta ortodossia marxista legata al principio della rivoluzione come momento indispensabile per costruire una società comunista in quel partito rimase poco meno di un anno e poi fu espulso per indisciplina scoppiava il 68 e fu un'ubriacatura di idee novità letture proposte scelte azioni l'uomo una dimensione di Marcuse o ribellarsi è giusto di Sartre e Gavi erano le sue letture pressoché obbligatorie ma Peppino comprava altri libri pagando le rate nel 72 la candidatura di Valpreda nelle liste del manifesto rappresentò un forte momento di impegno ancora più qualche anno dopo la creazione del circolo musica e cultura che fu un esaltante momento legato da una parte alle idee del movimento lo 77 dall'altra ancorata a lotta continua i 200 giovani che ne facevano parte si dedicavano tutti dal cineforum ai dibattiti sulla repressione sessuale sull'uso delle droghe sul nucleare alla ridicolizzazione degli atteggiamenti e delle usanze della borghesia l'ultimo passaggio della sua vita fu radio out costruita con poveri mezzi ma efficace nel denunciare gli intrecci tra mafiosi e politici e le loro speculazioni Peppino era tornato alla ribellione iniziale quella contro suo padre mafioso che adesso era sostituito da Tano Badalamenti boss assoluto del territorio e non solo fu questo che non gli venne perdonato di aver rotto un codice di non essere organico al sistema dominante di non aver avuto rispetto per i potenti e di averli ridicolizzati pubblicamente e la strategia del suo delitto fu quella di farlo passare per un terrorista per un suicida comunque per un folle ucciso lo stesso giorno dell'assassinio di Moro Giuseppe Impastato è stato un giornalista politico e artista venne ammazzato dalla mafia perché faceva nomi e cognomi in una cinisi sorda cieca e muta Peppino Impastato nasce in una famiglia di mafia il padre Luigi Impastato era strettamente legato a Cosa Nostra attraverso il suo cognato Cesare Manzella un boss di prima grandezza che negli anni 60 aveva giocato un ruolo chiave nell'avvio del traffico di droga con gli Stati Uniti Peppino rifiutò fin da ragazzo quel mondo Radio Out la rottura dei rapporti col padre è la conseguenza quasi necessaria della sua diversa concezione del mondo viene cacciato di casa nel 77 fonda Radio Out un'emittente libera autofinanziata nella trasmissione Honda Pazza denuncia la connivenza e gli affari dei mafiosi vicinisi e i terrasini il bersaglio preferito è Don Tano Badalamenti soprannominato Tano Seduto l'erede del Cesare Manzella nonché amico di suo padre Luigi è un destino segnato quello di Peppino impastato il 9 maggio 78 mentre l'Italia è sotto shock per il ritrovamento del corpo senza vita tra il presidente del presidente del presidente Aldo Moro Peppino viene ucciso dilaniato da una bomba piazzata sulla ferrovia Palermo-Trapani cinque giorni prima della sua elezione consigliere comunale inizialmente le indagini parlano di attentato terroristico e in seguito di suicidio dopo due archiviezioni 84 e 92 il 15 dicembre 1998 si tiene la prima udienza del processo il 5 marzo 2001 la corte di Assise condanna Vito Palazzolo 30 anni di reclusione e l'11 aprile 2002 la corte di Assise di Palermo infligge a Gaetano Badalamenti la pena dell'ergastolo come mandante dell'assassino di Peppino impastato è nato nella terra dei Vespri e degli Aranci tra Cinisi e Palermo e parlava alla sua radio negli occhi si leggeva la voglia di cambiare la voglia di giustizia che lo portò a lottare aveva un cognome ingombrante e rispettato e rispettato